Cattiveria a domicilio, scritto da Johnny Sweet e diretto da T. Sharrock, racconta un'incredibile storia vera ambientata un secolo fa nel 1922 sulla costa meridionale dell'Inghilterra e segue le vicende di due vicine di casa, Edith Swan, interpretato dalla magnifica Olivia Colman, originaria del luogo, è Rose Goulding, Jessie Buckley, immigrata irlandese, arrivata con una figlia e un compagno di colore. Edith vede in Rose la liberazione, l'insopprimibile fascino del turpiloquio che usa, che lei non vuole ripetere però in qualche modo interiorizza e qui è la chiave del film. Rose invece vede l'oppressione di Edith che è diciamo isolata soprattutto dai genitori e dal padre il grandissimo Timothy Spoll. Inevitabilmente le diverse educazioni porteranno incidenti che si trasformano in un allontanamento definitivo e allora che arrivano delle lettere al peperoncino delle lettere oscene indirizzate a Edith ma anche ad altri concittadini e i sospetti ricadranno subito sul rose proprio per il turpiloquio che è solito usare. Perché vedere questo film? Anzitutto per la grandissima recitazione di Olivia Colman che però è anche un punto ad emerito perché finisce per coprire l'interpretazione di Jessie Buckley che nella figlia oscura di Maggie Gyllenhaal era stata veramente un'ottima spalla ma qui finisce per sparire e comunque un film che riesce a suscitare un poco di riso è stato il campione d'incassi in Inghilterra soprattutto dopo la pandemia. Un'ancora nota stonata è però nel Politically Correct che rende il tutto un poco non credibile per l'epoca soprattutto il riscatto della poliziotta di origini indiane che guiderebbe la sommossa femminista a favore di Rose ma è un film piacevole sicuramente da seconda serata e da sonni belli.